Dopo il video in cui Yon si è pronunciato rivelando un sacco di verità nascoste su tantissimi personaggi della scena trap italiana, da Tony F a Mambolosco a Gallagher, quest'ultimo ha voluto rispondergli, e l'accusa era stata di essersi fatto la ragazza di Traffic mentre lui era in carcere, senza contare l'essere stato con tutte quante ragazze di Side, tra cui Asia Valente che la sua attuale fidanzata è Cyber Becca, che è l'ex storica di Side con cui stava insieme addirittura prima di diventare famoso. Quindi non aggiungo altro ma vi lascio alle stories del Galla, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate, noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio. Ising, sono solo Brobs, questo è mio fratello Traffic, mi ha scritto ieri che era il suo compleanno, te chi ero, mi sa per uscire, per quanto riguarda Asia è la mia ragazza, non devo dire un cazzo a nessuno, lo fate soli... Allora sto sentendo parlare tanto in queste ultime 24 ore di sto video, di queste calugne, io faccio il musicista, per quanto mi riguarda in questi due anni si è cambiato tanto, lo sapete benissimo, ho chiesto il mio fratello, è di certo che... Io mi metto a tornare per strada per farvi contenti, io tantomeno mi metto a rispondere per farvi più a due follower, se ci avete bisogno di qualche follower dimmelo che ti mando due belle foto, questo è un bel fregno e se ci avete qualche problema mi iscrivete in DM, ok? E ci vediamo prima di subito, va bene? Un bacione grande a tutti, mi vado a fare una bella passeggiata con i miei amici, con il Nissan GT-R e state bene così! Grazie!